Buongiorno, benvenuti, questa è la segna stampa di oggi 14 marzo, cerchiamo di essere veloci, andiamo subito sui titoli fondamentali. Noi italiani che non vogliamo morire di clima, insomma il titolo forse oggi più interessante dei giornali italiani e meno condivisibile è quello di Repubblica, domani in piazza, in tutto il mondo, gli studenti che protestano per il loro futuro, niente di nuovo sotto al sole occidentale, questo verrebbe da dire, Repubblica cavalca, da buon giornale figlio del più grande finanziere capitalista italiano, cioè De Benedetti, cavalca il concetto del clima che ci uccide. Poi dopo vedi pagina 2 che parla di questo rapporto dell'ONU per cui sono 9 milioni morti all'anno, ma allora uno si chiede, scusatemi, questi 9 milioni di morti all'anno sono derivanti dai cambiamenti climatici o dall'inquinamento? E dall'inquinamento? E da dove avvengono? Nei paesi capitalisti che inquinano o nei paesi più poveri per i quali l'inquinamento è appena iniziato? Nei paesi più poveri? Insomma non voglio dire che non ci sia il cambiamento climatico, non voglio dire che non ci siano prove antropiche, cioè che siano noi uomini a crearlo, sono tutte cose in discussione, ma la certezza granitica è che domani gli studenti, cioè una massa di caproni, invece di studiare, come dice favolosamente oggi Lottieri sul giornale, andrà a manifestare per ripetere a pappagallo, se non avevo esagerato, lo dicevo anche quando ero ragazzino con queste manifestazioni degli studenti, ripetere a pappagallo il fatto che stiamo morendo di clima. E c'è sempre un cattivo quando si muore di clima? E il cattivo è il capitalista, McDonald's, Fendi, che ne so, Moncler, quale può essere il cattivo capitalista? Uno che fa soldi e quindi facendo soldi distrugge il pianeta e distruggendo il pianeta toglie il futuro ai giovani, almeno alcuni giovani, perché è del tutto evidente che non sono tutti così. Bene ha fatto il ministro dell'istruzione a non dare buoni soli, mi sembra che oggi su Repubblica c'è una lamentera nei suoi confronti perché non ha permesso ai ragazzi di scioperare per il clima buo, per avere un buon clima. Fantastico il pezzo di Lottieri che dice riscaldamento globale di matrice antropica, ancora non vogliamo sapere se è vero o non è vero, ma la signora Greta, la signorina Greta, che tra poco vedrete come ne parla sul mio sito Franco Battaglia, è da leggere il pezzo di Franco Battaglia su Greta, che cosa dice? Il cambiamento del riscaldamento globale di natura antropica, bisogna fermare tutto, bisogna tirare il freno, questa è la frase di Greta intervistata oggi da Repubblica. Che vuol dire tirare il freno? Che vuol dire? Spiegatemelo, spiegatelo, io voglio sapere che vuol dire tirare il freno, spegnere le luci, non andare più in macchina, non usare l'alta velocità, diminuire la velocità, non consumare più, basta con la plastica, che è stata una grandissima invenzione italiana, ecco, dobbiamo fare questo, dobbiamo riportarci a 50, 100 anni fa, a Cristo si è fermato a Eboli, in cui c'era l'analfabetismo, in cui si moriva a 55 anni o 60 anni, in cui l'aspettativa di vita era molto più bassa, in cui le disuguaglianze, che tanto ci fate due palle così, erano molto superiori, c'erano gli aristocratici e c'era il popolo, ecco, facciamo così, ritorniamo a 200 anni fa, io già so da che parte starei molto comodo, molto comodo in questa grande disuguaglianza, in cui quello che conta non è il merito, cioè la capacità di fare, di inventare, di intraprendere, ma è come si nasce, questo è quello che vogliono sostanzialmente i ragazzi che domani manifesteranno per tirare il freno, il tirare il freno per fare cosa? Siamo tutti bravi a dire tiriamo il freno, siamo tutti bravi a far vedere questi slogan straordinaria con la povera tartaruga che è uccisa dalla plastica, perfetto, evitiamo di utilizzare la plastica e poi? Dopo come facciamo? Oggi Fubini ci racconta in un'inchiesta straordinaria sul Corriere della Sera quanto la chimica attira le persone più povere di questo paese, sapete cosa sta succedendo? Che c'è un esito biblico, perché è un esito che vale praticamente un milione di persone, che dal sud Italia vanno in Lombardia, in Emilia Romagna e in Veneto a farsi curare, a fare le cure più care, le chemioterapiche, cioè la chimica allo stato puro per poter vivere di più, dai paesi più deboli ai paesi più forti e questo rende molto, dice Fubini, forte la Lombardia che ha, questa roba qui costa 4,6 miliardi questo tipo di transumanza dal sud a farsi curare al nord, allora sapete che vogliamo fare in un mondo normale, in un mondo in cui non dobbiamo inquinare, non dobbiamo consumare, non dobbiamo viaggiare, dobbiamo avere ovviamente cure, come possiamo dire, a chilometro zero, facciamoli curare lì, calabresi, siciliani e non facciamoli scegliere per merito, adesso voi direte non c'entra nulla, c'entra e come? C'entra perché chi non riconosca il fatto che il progresso, lo sviluppo, la modernità, la chimica ci ha portato avanti e che si affida alle treccine di Greta che ci dice tiriamo il freno a mano, insomma io non ci sto, come direbbe quel orribile Presidente della Repubblica che si chiama Scalfaro o Scalfari. Giulia Sarti, straordinaria la storia di Giulia Sarti perché è la storia di una ragazza che è stata Presidente della Commissione di Giustizia della Camera, non è esattamente Greta, insomma questa Giulia Sarti si è dimessa per una denuncia che aveva fatto nei confronti del proprio fidanzato, collaboratore rumeno, che i magistrati hanno detto è una denuncia falsa perché aveva denunciato lui di essersi appropriato dai soldi suoi, col piccolo particolare che lei aveva dato a lui il token, gli aveva dato le password, era ovviamente tutta una brutta storia di rimborsi, ma in questa brutta storia di rimborsi sono uscite anche delle foto, o se che lei si è fatta, purtroppo io le ho viste, come tutti noi giornalisti le abbiamo viste, non è essere guardoni, è essere fare il nostro mistero e mai le pubblicherei e mai penserei che questa cosa abbia un senso e trovo veramente disdicevole che queste cose possano girare, le ha fatte lei, evidentemente le ha mandate o addirittura, peggio mi sento, qualcuno le ha rubate a lei e sono finite sui social network, ma questa vicenda di cui peraltro io non ho parlato volutamente a Quarta Repubblica è diventata una vicenda clamorosa perché girerebbero anche dei video. Chi è che ha parlato di questa vicenda? Lilli Gruber e oggi qual è il giornale che si attacca dicendo tremendo questa cosa con la Sarti? È il fatto di Marco Travaglio con un suo fondo, il fatto di Marco Travaglio se la prende con le iene che hanno invece fatto un'inchiesta sui rimborsi della Sarti, non sulle sue foto Ose, delle foto Ose ha parlato la Gruber, ma perché la cosa importante? Per il semplice motivo che Travaglio è ospite fisso della Gruber, è l'amichetto della Gruber, con quest'aria sua, come dice oggi qualcuno, forse Feltri, su Libero, con questa anima candida, dice ma cos'è questa cosa dei video porno, eccetera? È lei che ne ha posta la questione e qui tu stai dicendo che le iene sono iene perché hanno tirato fuori la questione dei rimborsi e ti dimentichi che è la tua amichetta di aver fatto tutto lo scandalo. Scandalo che peraltro a me interessa poco il fatto che lei abbia foto porno o non foto porno. Una cosa vera lì è che lei, la Presidente della Commissione Giustizia, ha fatto una difesa, ha fatto un'accusa falsa sapendo che era falsa al suo fidanzato. Poi il fatto che lei avesse, tra l'altro, utilizzato i soldi dei nuovi italiani che lei diceva che avrebbe restituito e non l'ha restituiti per fare un impianto di riprese nella sua casa e per cui tutti quelli che passavano a casa sua venivano 24 ore al giorno ripresi, filmati e registrati, come ha dimostrato questo sì, un servizio delle iene, questo mi pone anche dei dubbi leciti sul fatto che questa ragazza tutta normale non è perché una che riprende tutte le sue e tiene nel computer tutti gli incontri politici che fa a casa sua, insomma qualche preoccupazione io me la porrei. Di Fulbini vi ho parlato, della Sarti ve l'ho parlato, ritratto stupendo di Davigo fatto oggi da Perna, dovete leggerlo. Davigo, non esistono politici innocenti ma colpevoli su cui non sono state raccolte le prove. Su questa frase del giustizialismo orrendo di questo PM che oggi è diventato magistrato, cioè giudice, cioè da accusatore a giudice, pensate voi che cosa vuol dire essere giudicati da uno che dice non esistono politici innocenti ma colpevoli su cui non sono state raccolte le prove e lui, racconta Perna, si difende e dice beh ma questo lo dicevo soltanto per un processo, avevo 40 anni e era il processo sulla metropolitana milanese, quindi anche lì si giustifica, anche se c'è poco da giustificare perché voglio dire, dà un senso che tutti i politici dell'epoca fossero colpevoli, ma dice Perna su questo suo tic per cui sono tutti colpevoli, c'è ricaduto recentemente in un'intervista alla stampa in cui riguardo alle ingiuste detenzioni di cui l'Italia è tra i principali attori in Europa, sapete cosa dice riguardo a questa vicenda, c'è gente che va in galera ingiustamente invece di chiedere scusa, dire che abbiamo sbagliato, che non dovrebbero venire mai più, cosa dice le ingiuste detenzioni? Colpevoli che l'hanno fatta Franca. Allora dice Perna, allora non è vero che è soltanto un vecchio pregiudizio quello che abbiamo nei tuoi confronti, tu sei rimasto quella roba là, un tremendo manettaro ghigliottinaro di cui non voglio continuare a parlare perché se no vado in galera. Stallo all'Inps perché Tridico non vuole mollare le sue deleghe che è presidente comunista, amico di Di Maio, amico nel senso intellettuale di Di Maio, piazzato alla presidenza dell'Inps, non vuole dare le sue deleghe al vice piazzato lì dai leghisti che quindi non accetta il posto. questo Mori che tra l'altro ha un po' di problemini rispetto ad alcune sue scelte tipo diciamo un po' clientelari, dicono oggi i giornali. Ultima questione è la Brexit, sulla Brexit oggi apre il Corriere della Sera con un risibile pezzo di Beppe Severnini in cui non c'è mai una cosa intelligente, lui è sicuramente una persona intelligente, ma tu leggi quei pezzi e dici, oh ma mi dici una cosa? Stiamo guardando al disfacimento di una credibilità come quella inglese, ma me volete dire una cosa? Per fortuna che ieri ho parlato con un mio caro amico che si occupa di cose inglesi e una roba me l'ha raccontata, che non mi permetto di mettere in confronto a tutti gli illustri opinionisti di questi giorni, ma una cosa me l'ha raccontata su Brexit. Nicola, la tacele è caduta per una questione parlamentare, Churchill è caduto per una questione parlamentare e ha cercato sempre di convincere il Parlamento pur essendo in guerra, quello è l'unico vero grande regime parlamentare in cui non conta il Premier, in cui non conta la Regina, in cui non contano i giudici, in cui conta il Parlamento, Westminster, nel bene e nel male, questa è l'Inghilterra, se vi piace così è, questa forse è una di quelle considerazioni che avrei voluto leggere da qualcuno oggi sui giornali in maniera un po' più sofisticata di come l'ho fatta io, ma a me è arrivata così e così in questa zuppa ve la regalo. Direi che per oggi è tutto, noi ci vediamo come sempre domani e per quanto riguarda questa roba ambientalista, questo catastrofismo che è arrivato e che andrà di moda, vedrete per i prossimi mesi, Franco Battaglia esordio oggi sul sito nicolaporro.it. Ciao a tutti quanti!